Allora, grazie. Grazie. Avete una forbicina? No. Sì, lì. Non ti ho la forbicina, no, non ti ho la dietro. Aspetta che ce la doi io. Metti là. E vede che ce l'ho passato lì. Andiamo di qua. Perché lui là tu la puoi. Puoi mettere un po' di più. Bello, bello. Alcun po' di più nella tassaretta? Piano. Questo? Apriamo? Fa quel senso di pratica. Ma non giralo, giralo, giralo tu. Aspetta che non lo prende. Non mi fai scusare e prenderlo. Sì. Ma bello. Fa vedere. Apriamo, Geica. Apriamo? Fa vedere. Eh? Ma doni, quanti hanno me li vede. Ma non sono miei questi, eh. Bello, bello. Ma questi sono belli, eh. Ah! Perfetto, è la pulissima orecchia. Come la pulissima? Guarda, fai vedere alla mamma così. Ah, è un forza cellulare. Dove riguarda il nonno perché la sua grandezza è quella. no. Adesso, facciamo. Sì, prendiamo. No, è un'angeli, sua parte dove va. Come? No, nonna, mettiamo qua lì. Guarda, guarda qua. Engel, guarda, Angelica c'è bella. Ma c'è il tuo nome? no la mamma ti dice che bolle lì bolle ah bolle basta bolle dai apri la picca no io non ho piano 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 è forte però è forte la casa di pardi questo è più bello è questo no 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 è l'altro dov'è l'altro dov'è l'altro è la due è un fermo anello è un po' rosso è un po' rosso è un po' rosso è un po' rosso